ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi sabato 5 novembre 2022 abbiamo un weekend ci saranno molte manifestazioni su tutto il territorio quindi ne daremo notizia leggendo i giornali intanto iniziamo la giornata con l'almanacco e vediamo chi è il santo del giorno oggi si festeggia eccolo qui nella grafica san guido maria conforti possiamo dire che è un santo del nostro tempo pur combattuto per tutta la vita da una malattia che lo minò nel figlio nel fisico fu un indefesso predicatore del vangelo di stampo missionario morì nel 1931 quindi nacque nella seconda metà del diciannovesimo secolo dopo aver fondato e morì dopo aver fondato i missionari della consolata ecco la missione lui voleva andare in cina non ci andò perché poi appunto le sue condizioni fisiche non glielo permisero però aveva questo sogno e la sua missione la fece invece nella sua nel suo ambito sociale nel suo ambito di operazione san guido maria conforti un santo che merita di essere approfondito vediamo anche le previsioni del tempo il tempo è cambiato come abbiamo visto nella giornata di ieri è tornata la pioggia ancora oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi i venti saranno forti e proveranno da nord e nord est il mare è mosso e le temperature sono un po diminuite diminueranno dai 12 ai 16 gradi insomma non andiamo più verso quei 20 22 23 gradi di appena qualche giorno fa il tempo è cambiato l'autunno è arrivato quindi ben arrivato autunno così possiamo dire e ci ho detto diamo subito un'occhiata ai giornali ma però prima diamo un'occhiata anche ad un'immagine fanese oggi è sabato e in piazza 20 settembre il cuore della città si svolge il mercato non sono molte le bancarelle a causa della pioggia ma poi se il cielo si rassenerà e la pioggia terminerà altre se ne aggiungeranno a quelle che sono presenti devono ancora comunque stendere le loro bancarelle perché la pioggia ovviamente potrebbe rovinare i loro prodotti allora diamo un'occhiata ai giornali aprendo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo il resoconto di una conferenza stampa che si è svolta ieri in comune l'aset ha dato notizia di un'importante iniziativa quella della telelettura per quanto riguarda il sistema idrico contro gli sprechi entro la fine dell'anno saranno 8 mila gli utenti che potranno beneficiarne aset annuncia la digitalizzazione dei contatori che cosa significa questo scusate significa che l'aset potrà controllare in maniera telematica il contatore dell'acqua di ogni abitazione e si accorgerà se ci saranno degli sprechi e questo eviterà quei grossi e le grosse bollette che giungono a quei utenti che sono stati soggetti a larghe perdite occulte quelle perdite di cui non si conosce la natura il momento in cui arrivano e poi invece quando arrivano le bollette salgono gli importi molto molto considerevolmente e questo è un sistema che potrà evitare questi incidenti dunque la telelettura ora si tratta di 8 mila utenti poi piano piano aset ha detto che estenderà questo servizio a tutta la comunità a tutta la popolazione a fondo pagina invece abbiamo una lettera del sindaco massimo seri che è rimasto colpito e scosso da quanto avvenuto nel campo sportivo dove un genitore di una ragazza di un atleta di casa ha insultato una ragazza ospite per il colore della sua pelle seri scrive alla giocatrice insultata il tuo dolore è quello che provo io devo dire che leggere questa lettera è una bella lettera si prova un senso di compartecipazione alle emozioni del sindaco sono un po le emozioni un po di tutta la città insultare una ragazza di 15 anni di 15 anni per il colore della sua pelle è veramente ancora una cosa che sa di altri tempi quando ancora c'era poco cultura per la multinazionalità contro il razzismo insomma queste cose oggi non dovrebbero più accadere invece purtroppo persistano il sindaco come te mi sento deluso arrabbiato e offeso da questo terribile episodio e così tutti i fanesi e qua abbiamo un anziano che spaccia per arrotondare la pensione capita anche questo quando un uomo è alle strette non gliela fa arrivare alla fine del mese può cadere anche in queste e in questi pericoli finisce in manette un ex ristoratore lo hanno preso gli agenti del commissariato di fano mentre stava cedendo la cocaina al suo cliente quindi stato accolto in fragrante in fragrante si tratta di un 70 ex ristoratore originario del piemonte ma residente da anni nella città di fano lo hanno rastrato in flagranza gli uomini del commissariato mentre stava cedendo la droga ad un cliente il passaggio della droga è avvenuto nella zona della sassonia vicino alla pista dei go kart quindi una zona piuttosto apartata e qui gli agenti si sono appostati evidentemente avevano capito insomma quello che stava facendo quest'uomo e sono entrati in azione proprio nel momento culminante quando lo hanno sorpreso però sembra che insomma ci siano anche dei trascorsi per cui insomma ecco perché l'uomo veniva attenzionato così come dicono gli uomini dell'ordine quando si chiedono le notizie e per proposito di uomini dell'ordine vediamo qui un uomo che si è fatto benvolere da tutti si tratta del luogotenente Antonino Barrasso comandante della stazione di polizia di marotta e poi della stazione di scusate di carabinieri di marotta e poi anche della sezione e della stazione di fano non della compagnia ma della stazione l'amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento e quella di mondolfo al luogotenente dei carabinieri Antonino Barrasso che ha sempre dato prova delle sue grandi doti morali ed in un comune ed in una comune disponibilità umana competenza e professionalità un uomo che sapeva applicare l'ordine pubblico senza diciamo così superare le righe lo faceva con determinazione ma lo faceva anche con umanità ecco perché si è fatto benvolere nuove famiglie procreazione medicalmente assistita è l'argomento che verrà trattato lunedì prossimo nel pari centro di fano in via montevecchio e il tema questo di un'iniziativa organizzata dall'associazione di promozione sociale giunone è un evento dedicato a chi giudica e chi pregiudica perché ci sono situazioni situazioni familiari che ancora oggi destano dei commenti insomma così insomma che non critici ecco voglio dire le nuove famiglie si tratta la famiglia nata dalla procreazione medicalmente assistita non viene accettata da tutti e beh questo è un tema che verrà approfondito lunedì in questo centro di ascolto e di attenzione che è stato istituito dall'assessorato alle pari opportunità attualmente il nucleo tradizionale sta sempre diventando una realtà numericamente minoritaria quello che era una volta la maggioranza oggi mano mano cede il posto a altre situazioni e qui vediamo una iniziativa che si svolge ogni anno ed è una delle più qualificate iniziative di carattere promozionale del territorio ma anche di carattere economico che si svolge appunto nella nostra provincia si tratta del festival mostra mercato dell'olio e dell'oliva di cartoceto questa iniziativa si svolgerà domani e domenica 13 due domeniche dedicate alla promozione di questo prodotto altamente qualificato un percorso tra enogastronomia e storia e Tommaso Maggioli che è presidente del consorzio di tutela della DOP di cartoceto dice questa è l'annata del secolo per quanto riguarda la qualità sembra così una cosa eccezionale ma la siccità estiva che si è prolungata molto questa estate ha favorito la produzione di un prodotto veramente di alta qualità e sembra che quest'anno non sia nemmeno molto non sia stata molto prolifica la mosca dell'olio che spesso una mosca dell'olivo che spesso rovina molta parte del prodotto dunque si svolgerà domani domenica la tredicesima cartoceto DOP festival mostra mercato dell'olio e dell'oliva rassegna giunta alla 45esima edizione e che ha dal 2014 assunto un carattere festivaliero proponendo un percorso articolato tra enogastronomia d'eccellenza arte storia spettacoli e grande musica insomma ci sono tante iniziative collaterali che rendono particolarmente attraente questa festa quindi tempo permettendo anche se c'è una schiarita o anche se non c'è una schiarita una capatina a cartoceto merita questa domenica e quella successiva mentre a san costanzo invece si qualifica il vino san costanzo alla cantina brucia un premio top dei top il riconoscimento di prestigio per una delle eccellenze vitivinicole dell'entroterra cesanese insomma abbiamo olio e vino di grande qualità si tratta di cose importanti perché poi si tratta di una produzione primaria dell'economia quella agricola quella che deve essere sempre tenuta in grande considerazione perché è quella che poi influisce sulla economia alimentare la prima cosa con la quale si confronta una famiglia e dopo da questa dipende anche poi tutto e tutti gli aumenti o tutte o tutti i problemi che nascono nella catena successiva della economia da quella alimentare poi a quella che di altri generi e sono problemi questi che inficiano poi la vivibilità di un territorio giriamo pagina e vediamo quella di urbino dove alla medie volponi si inaugura un'aula intitolata a raffaele gualazzi il cantante urbinate ha inaugurato ieri un ambiente dedicato alle lezioni di musica dorina avanti porterà il suo nome e questo veramente la consacrazione di un successo una consacrazione importante perché quando si pone ad esempio ai bambini ai ragazzi una persona vuol dire che questa persona ha avuto delle qualità particolari e questo può accadere anche ad un cantante sempre ai vincitori i ragazzi del centro francesca lo sosport conquista la qua per quarta volta il titolo nazionale del campo del campionato fisdr cis xi di pallavolo un gran lavoro di squadra lo sosport di urbino è di nuovo dunque campione d'italia di pallavolo gli atleti e le atlete dell'associazione sportiva legata al centro socio educativo francesca hanno vinto per la quarta volta questo campionato e quindi merito a questi ragazzi vediamo qui delle fotografie che rendono merito al loro titolo conquistato la pecchiese ripristinata dopo la frana finalmente si riapre questa strada l'ampio fronte di terra sceso sulla strada a dicembre è ora un ricordo è accaduto dicembre scorso quindi sono passati ormai diversi mesi quasi undici mesi la regione marche ha concluso i lavori in questa fotografia si vede appunto l'ampio fronte franoso sulla pecchiese e poi a destra la visita del primo novembre scorso sul luogo da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture francesco balbelli e del consigliere rossi e dell'impresa perfetti insomma sono quelle persone che ci sono poi interessate affinché questa strada fosse liberata e ripristinata al traffico abbiamo parlato prima di sport per quanto riguarda il titolo acquistato dai ragazzi del centro francesca quindi possiamo dare un'occhiata anche allo sport dato che oggi è sabato e vediamo che per quanto riguarda il calcio la vissa molto da recuperare l'estro di di paola per riaccendere la vis sassarini l'allenatore ritrova l'ispiratore del gioco per la gara di oggi si svolgerà alle 14 30 questa gara al benelli contro il siena dobbiamo registrare la fase offensiva e le scelte ha detto l'allenatore e per quanto riguarda le strategie ebbene si punta sulla aggressività per contenere la manovra della squadra avversaria aggressività di tipo sportivo ovviamente rossoni c'è ma va in panchina e per quanto riguarda invece il fano calcio il fano calcio oggi viene evidenziato tramite una intervista che davide eusebi sul resto del carlino ha fatto con ettore padovani padovani si opera e si prenota per le ultime gare ma tese un cliente ostico rispondere a esposito con il gruppo gucci granata magari hanno detto appunto i dirigenti di questa squadra dunque una partita ancora impegnativa per il fano calcio che ormai veleggia nelle parti alte della classifica e diamo un'occhiata anche alle altre gare magari quelli degli sport quelle quello del dei livelli inferiori per quanto riguarda il calcio fermigliani fermignanese d'assalto promozione la capolista montecchio contro la storica rivale santosso va ad ancona e poi invece per quanto riguarda la it al service quanta rabbia solo pari con san giuseppe pesaro gioca bene strappa applausi ma però non trova la vittoria il risultato è due a due it al service pesaro due real san giuseppe due due volte in vantaggio i biancorossi si fanno però sempre raggiungere mentre per il campionato di eccellenza urbino a gallo non sarà una gita fuori porta classica del campionato questo tra due squadre di valore e anche il fossombrone dovrà soffrire con il val di chienti vediamo anche lo sport della vl per quanto riguarda il basket ecco qua il titolo vl la mia qualità migliore e la mentalità good munson viene da famiglia di cestisti i genitori hanno giocato in nazionale sono qui per repesa ho un gran rapporto con lui ha detto e per quanto riguarda invece l'equitazione è un super de luca gli applausi di verona fiera cavalli lampo azzurro nella prima giornata del fai world cup fa il premio prestige poi splendido terzo nel casco insomma abbiamo anche questo sport che viene seguito da non pochi appassionati appunto dei cavalli e c'è anche questo nella nostra regione a questo punto chiudiamo il giornale dello sport e vediamo invece che cosa il resto del gallino ci dice per quanto riguarda la pagina pesarese e vediamo che il giudice ha combinato una pena a quel medico che con la omeopatia aveva curato un bambino senza però riuscire a salvarlo si tratta del dottor massimiliano mecozzi che è stato riconosciuto colpevole della morte di francesco il bambino francesco bonifazzi sette anni la vittima appunto di cure mancate il tribunale lo a tre anni di carcere il pm ne aveva chiesti quattro rispondeva di omicidio colposo becozzi per aver curato il bambino di sette anni sofferente di otite con trattamenti omeopatici tre anni di carcere e di vieto di svolgere la professione di medico per cinque anni questa è la condanna del giudice di primo grado decisa ieri nel tribunale di ancona appunto nei confronti di questo medico che un caso questo che ha fatto molto molto parlare di sé ed ora ha avuto una sentenza probabilmente ci sarà ricorso e vedremo che cosa decideranno gli avvocati e il l'imputato per quanto riguarda questa sentenza ebbene ieri 4 novembre giorno di festa in prefettura a pesaro sanitari insegnanti imprenditori festa in prefettura per i cavalieri abbiamo parlato prima di quitazione questi non vanno a cavallo veramente ma vanno a cavallo della loro professione sono stati premiati dal governo per il loro lavoro per l'impegno che hanno dimostrato nel appunto svolgere la loro professione ieri mattina la cerimonia di fronte al di fronte al prefetto insegniti molti infermieri e medici protagonisti durante la pandemia tra i protagonisti lo storico pilota di moto paolo campanelli e poi marcella attinazzi per quanto riguarda la scuola e mauro tv roli la di di dell'associazione pesarese marche multiservizi appunto che si occupa della gestione di importanti servizi come l'acqua in gas eccetera insomma è una importante azienda non dico pesarese ma dico ormai territoriale e abbiamo qui anche diversi focus che si fanno su personaggi Laura Biagiotti la sindacalista che si occupa di sanità dedicò l'onoreficenza agli infermieri ma soltanto ai vaccinati ha detto in polemica aperta con quelli che hanno rifiutato il vaccino e poi un poliziotto insignito si tratta dell'ispettore ferito da Fabio Savi della 1 bianca vi racconto quei giorni ha appunto detto dopo aver ricevuto il grande riconoscimento e poi ieri era la festa delle forze armate si svolta una celebrazione a carattere provinciale a Pesaro nella caserma Aldo del Monte una celebrazione in questo caso che ha riassunto un po' tutta l'adesione la simpatia che le forze armate riscuotono in tutta la provincia in occasione del 4 novembre si è svolta nella caserma Aldo del Monte la cerimonia per celebrare il giorno dell'unità d'Italia e le giornate delle forze armate nell'intento di condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza e qui alberga il ventottesimo reggimento Pavia che ha aperto le sue porte ieri dalle 9 e 20 alle 13 per una visita di tutta la cittadinanza era un reggimento che una volta era a distanza nella caserma Paolini di Fano una caserma la cui destinazione ancora deve essere decisa perché attualmente funziona solo come un parcheggio e qui abbiamo il prefetto Tommaso Ricciardi che si occupa dei profughi ucraini ebbene i profughi che sono giunti nel nostro territorio per una prima sistemazione ci ripensano molti ritornano in patria dati elaborati dalla prefettura in 63 su 135 hanno fatto domanda di rientrare nonostante che in Ucraina la situazione non sia affatto tranquilla anzi in questi ultimi tempi è molto molto peggiorata perché la Russia ha preso a bombardare gli edifici civili e quindi anche le case, i condomini, i palazzi sono molto molto a rischio altri vorrebbero traslocare nei centri di accoglienza straordinaria e lasciare le case di amici e di parenti che con grande umanità li hanno ospitati porto per gli americani l'estate continua ieri ha gettato l'ancora nel porto di Pesaro la motonave Artemis carica dei turisti in previsione ancora altri due viaggi quindi ancora ci sono molte persone che vengono in vacanza nel nostro territorio l'8 e il 15 di novembre, trasportate mille persone, un bel carico è stato deciso l'aumento per l'anno prossimo delle corse verso la Croazia quindi i collegamenti che fruttano turisti e poi vediamo un po' l'effetto delle isole ecologiche le nuove isole ecologiche che sono state istituite a Pesaro le isole ecologiche piacciono ma c'è chi non sa usarle i cittadini apprezzano il servizio eppure non mancano i sacchetti abbandonati i ristoranti e i negozi hanno orari precisi di raccolta e non possono anticiparli e beh insomma piano piano bisognerà abituare coloro che debbono fare riferimento a questo servizio vediamo anche la pagina di Urbino vediamo la pagina di Urbino l'abbiamo già vista prima anzi è quella delle medie Volponi dove è stata istituita la aula a Raffaello invece per quanto riguarda il Corriere Adriatico sulla pagina di Urbino si parla del declassamento dell'Inps che impoverisce il Montefeltro una raffica di critiche è stata elevata dai sindacati e dall'opposizione allarmato anche il sindaco per quanto riguarda quello che sta accadendo anzi per la scelta dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di ridurre i servizi a Urbino questo finisce un po' per riverberarsi nei confronti dell'amministrazione comunale e il sindaco Maurizio Gambini dopo aver inizialmente sminuito il problema cambia la linea e ora si accorge veramente che questo è un danno per tutta la città e veniamo alla pagina di Fano l'apertura è dedicata alla telelettura avviato il programma stop alle perdite idriche occulte e anche qui a fondo pagina vediamo la lettera del sindaco che esprime il suo dolore per quello che è accaduto alla quindicenne offesa al campo sportivo in questo articolo invece si fa un bel consuntivo del mese dedicato alla malattia oncologica delle donne quella dei tumori al seno prevenzione sono stati eseguiti durante questo periodo 150 controlli e sono stati trovati casi positivi la colpa è del covid Magalotti che è il dirigente medico della breast unit interviene sulle visite e dice visite gratuite al seno ma le prenotazioni erano maggiori insomma dice che le richieste ne sono arrivate molte di più di quelle che si sono potute fare nel giro di tre giorni tutti i posti erano già stati prenotati l'anno prossimo proveremo ha detto il medico ad ampliare questo servizio in occasione appunto dell'iniziativa che ha il fine di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione sorpreso a 74 anni a spacciare cocaina controllato dalla pista dei gocarda la polizia è stato portato in carcere ne abbiamo parlato olio d'oliva un'annata eccezionale il titolo che appare sul Corriere Adriatico per quanto riguarda il festival dell'olio e dell'oliva di Cartoceto e per quanto riguarda San Costanzo vediamo il sindaco Filippo Sorcinelli che dice programma attuato al 65% allarmati dal caro delle bollette si tratta di un consuntivo che il sindaco fa della sintesi di tre anni di mandato ed esprime i nuovi progetti e ancora sulla pagina di Senigallia si parla dei provvedimenti assunti per non essere più sorpresi da eventuali ondate di maltempo le vasche di espansione non bastano serve ragionare in un'ottica territoriale la delusione del sindaco di Arcevia per Ticaroli dopo l'incontro con l'assessore regionale Aguzzi osservano provvedimenti veramente efficaci per così controllare il dissesto del territorio ed evitare che si ripetano quelle alluvioni che ogni tanto purtroppo procurano gravi gravi danni e anche lutti alla popolazione per quanto riguarda la pagina pesarese vediamo che anche nel Corriere Adriatico si parla della raccolta differenziata da lunedì sarà tolleranza zero nei confronti di chi non si comporta in maniera consapevole ispettori per effettuare i controlli nell'arco di tutta la giornata e anche nei giorni festivi le multe vanno da 25 a 3 mila euro e non sono multe leggere ridatici posti auto spariti con stalli solo per i residenti e in questo caso si parla del parcheggio a pagamento di Piazzale Carducci dove il quartiere chiede la mappatura degli utenti sono troppi i cassonetti e che occupano spazio prezioso non è il ritorno dei non vaccinati a risolvere il problema di organico è il titolo che appare nella cerimonia di onorefficienza che si è svolta ieri a Pesaro della sala della prefettura e vediamo che questa iniziativa tira in ballo anche la sanità e a questo punto noi chiudiamo il giornale finiamo qui la nostra rassegna stampa vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7.30 intanto vi auguro buon weekend grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione